Ciao! Quello che facciamo oggi è vediamo un pezzo dell'intervista di Emilia Clarke, quindi l'attrice conosciuta e cerchiamo di vedere quanto riusciamo a capire di questa intervista se dovessi avere delle difficoltà non ti preoccupare perché poi il prossimo passo è proprio analizzare quello che dice e cercare di capire proprio il suo accento Iniziamo subito vedendo questo pezzo Come è andata? Beh, se hai fatto un po' di fatica come ti dicevo non ti preoccupare perché adesso analizziamo pezzo per pezzo ogni cosa che dice Iniziamo subito E allora iniziamo proprio dalla prima frase Che vuol dire chi è la persona con più probabilità di divertirsi sul set Questo perché most, magari lo sai, vuol dire il più Likely vuol dire probabile, quindi who's most likely vuol dire chi è la persona che ha più probabilità Sappiamo che have fun vuol dire divertirsi, quindi who's most likely to have the most fun Vuol dire appunto dire chi è la persona che ha più probabilità di divertirsi più degli altri Who's most likely to have the most fun simply being on set Vediamo invece adesso a livello fonetico Dobbiamo notare che quando dice most non dice lattifinale, non dice most Questo perché in inglese i madrilingua tendono a non pronunciare la t alla fine delle parole Ma essendo l'inglese sicuramente una lingua difficile a livello fonetico Se noti l'ultima parola, il set, si pronuncia a t finale E questo è dovuto semplicemente al fatto che essendo l'ultima parola di una domanda Gli mette un po' più di enfasi e quindi tende a pronunciare anche il finale della parola Quindi anche quella t Se invece quella parola fosse stata nel mezzo della frase, quella t probabilmente non l'avrebbe pronunciata Un'altra cosa da notare è come pronuncia likely Che in italiano ci piacerebbe pronunciare così likely e pronunciare questo finale bello forte Se invece tu noti la parte finale diventa quasi solo una i Quindi quella e e quella l fondamentalmente spariscono Nota anche che la G alla fine di being non si pronuncia, non è bing Nota che così diventa molto più italiano la pronuncia E infine nota che il verbo avere ha la pronuncia della H iniziale È have e non have Ok? Riascolta bene questa frase, te la faccio sentire anche rallentata e poi andiamo avanti E adesso passiamo a quello che risponde lei che fondamentalmente richiede la stessa cosa che lui ha chiesto per pensare E di nuovo nota che most non ha quella t finale Quindi è most likely, non most likely È most fun e non most fun E questo appunto come abbiamo detto è proprio dovuto al fatto che gli inglesi tendono a pronunciare molto meno la parte finale delle parole Per la regola dello stress che magari vedremo meglio in un altro video E nota anche likely che non viene pronunciato likely con quella l in maniera forte Ma la e e le l abbiamo detto che fondamentalmente spariscono Ricordati sempre che la H all'inizio delle parole va pronunciata Quindi è to have e non to have Riascolta bene come dice questa frase la madrelingua E poi passiamo alla prossima Ovviamente se credi che questo tipo di contenuto ti piace e ti possa servire Iscriviti al canale così puoi vederli nei altri E soprattutto metti un mi piace a questo video così mi fai sapere che vuoi altri contenuti come questo Woody Harrelson In questo caso vedi che due attori hanno dato la stessa risposta dicendo Woody Harrelson Nota per una cosa La doppia V in inglese si pronuncia quasi come la U di Uovo E nota che ancora una volta la H all'inizio della parola Anche se un cognome si pronuncia E nonostante ci siano due R vengono pronunciate come una sola Difatti in inglese la doppia consonante si può scrivere ma a livello fonetico è come se non esistesse Viene pronunciata sempre solo una volta Allora riascolta bene come pronunciano questo nome e poi vediamo la prossima frase L'attrice semplicemente dice che lui letteralmente non può non divertirsi Avevamo già detto prima che have fun o to have fun vuol dire appunto divertirsi Ma nota che qui non c'è un errore sui sottotitoli Non stiamo sbagliando nel dire can't più not Perché infatti sta proprio dicendo lui non può non divertirsi Questo è proprio il motivo per la doppia negazione Ma nota una cosa importantissima dell'accento britannico Per dire non può quindi c-a-n-t dice can't Prima di tutto non pronuncia quella t finale perché abbiamo già visto che la t alla fine delle parole non si pronuncia Ma nota il suono del can't molto chiuso Mentre invece se fosse stato un accento americano avrebbe avuto un suono molto più simile alla nostra e Ma questo però è un altro discorso che lo vedremo in altri video Riascolta bene come pronuncia la parola non può E nota come non solo il suono è molto chiuso ma anche la t finale sparisce e non viene pronunciata In questo caso il presentatore sta chiedendo really Quindi semplicemente sta chiedendo davvero È una forma abbastanza comune di intercalare un discorso in inglese E poi l'attrice riprende a parlare e dice appunto ovunque In qualsiasi scenario tu lo metti e vediamo proprio come dice questo Dovunque dice anywhere quindi l'unione di any e where Where sappiamo che è dove mentre any è ogni diciamolo così anche se può prendere diversi significati in base alla posizione in cui lo mettiamo E poi dice in any scenario Nota che gli usa lo stesso concetto di prima del any quindi in ogni in qualsiasi Ma nota soprattutto come pronuncia scenario Quel suono a scenario è appunto un suono molto simile al non potere che abbiamo visto precedente Questo è molto tipico del suo accento britannico E poi dice in ogni scenario in cui tu lo metti E nota ancora una volta che quella t di put non viene pronunciata Adesso ogni madrelingua non pronuncerebbe quella t? No in realtà spesso molti in questo caso lo pronunciano Semplicemente perché come noti Put him an viene pronunciata in un solo suono Quasi come se foneticamente fosse una sola parola Ma nell'accento britannico moderno la t nel mezzo delle parole spesso viene esaltata in quello che viene chiamato The glotteral t Però tu potresti pronunciarlo con una semplice t stile britannico O con una d se volessi avere una pronuncia più americana Ma ancora una volta lo vediamo magari in altri video dove analizziamo la pronuncia americana Quindi li ascolta questa frase e nota specialmente come unisce questi suoni Questo put him an in una sola parola E nota che quel an finale di nuovo non si pronuncia come in Con una i italiana ma è un suono più simile alla e E finisce dicendo He could be in a lift Quindi lui potrebbe essere in un ascensore Lift è appunto una forma di dire ascensore Anche se differisce un po' tra l'inglese britannico e americano Alcune volte infatti sentirai dire elevator Ma questo di nuovo lo vedremo quando analizziamo l'accento americano E poi usa un'altra espressione Noi abbiamo detto che To have fun vuol dire divertirsi Ma to have a good time Vuole appunto dire la stessa cosa Divertirsi Quindi lei dice che lui potrebbe essere in un ascensore Comunque divertirsi molto Tra l'altro fammi sapere nei commenti se il video ti sembrava facile E se questa spiegazione ti sta aiutando a capirlo più facilmente Di nuovo nota che la t alla fine delle parole come in grade Non viene pronunciata E la g alla fine di having Ancora una volta non si pronuncia Mentre la h all'inizio si si pronuncia Però di nuovo nota la differenza all'interno dell'inglese Che non ha una forma standard di dire le cose Ma dipende molto dalla velocità con cui parlano in madrelingua Quindi in base a come stanno pronunciando quella frase Pronunceranno certi suoni piuttosto che no Infatti se vediamo come dice ascensore Lift si pronuncerà la t finale Proprio per la questione dello stress Di dove mette l'enfasi in quella parola Quindi adesso riascolta bene questa frase Cerca di notare la t alla fine di lift Mentre cerca di notare come pronuncia Fantastico Adesso quello che dobbiamo fare è rivedere tutto il pezzo dell'intervista completo E vedere se adesso riesce a capire un po' di più quello che dicono E quindi seguire un po' di più il discorso Allora guardiamo questo pezzo Poi fammi sapere come va Chi è più venuto a aver la più contenta di fare una buonanotte Chi è più venuto a comprare gli fogni Woody Harrelson Woody Harrelson Ah Erick Portanto Per avere le cose in tutto il a r Betty In ogni scenario Qu'è buonere il in Chi è più in un lift È stato di aver una grande attenzione Chi è più venuto a aver il nostro buonanotte Chi è più venuto a aver messa Woody Harrelson Woody Harrelson Ah Erick Chi è più venuto a aver mai vinto In ogni scenario you put him in, he could be in a lift and be having a great time.